con pesci scarsamente compatibili, poi abbiamo il capricorno, capricorno con ariete abbastanza compatibili, capricorno con toro compatibili, capricorno con gemelli compatibili, capricorno con cancro abbastanza compatibili, capricorno con leone abbastanza compatibili, capricorno con vergine compatibili, capricorno con bilancia scarsamente compatibili, capricorno con scorpione compatibili, capricorno con sagittario scarsamente compatibili, capricorno con capricorno fatti l'una per l'altra, capricorno con acquario scarsamente compatibili, capricorno con pesci E poi abbiamo l'acquario, acquario con ariete scarsamente compatibile, acquario con toro scarsamente compatibile, acquario con gemelli scarsamente compatibili, acquario con cancro scarsamente compatibile, acquario con leone abbastanza compatibile, Acquario con Vergine incompatibile, Acquario con Bilancia abbastanza compatibile, Acquario con Scorpione abbastanza compatibile, Acquario con Sagittario compatibile, Acquario con Capricorno scarsamente compatibile, Acquario con Acquario compatibile, Acquario con Pesci incompatibili. E poi abbiamo i Pesci, Pesci con Arete incompatibili, Pesci con Toro fatti l'una per l'altra, Pesci con Gemelli incompatibili, Pesci con Cancro fatti l'una per l'altra, Pesci con Leone abbastanza compatibili, Pesci con Vergine scherzamente compatibili, Pesci con Bilancia fatti l'una per l'altra, Pesci con Scorpione fatti l'una per l'altra, Pesci con sagittario abbassato compatibili, pesci con capricono compatibili, pesci con acquario incompatibili, pesci con pesci fatti l'uno per l'altro. Ecco, quindi questa è la tabella definitiva, assoluta, delle compatibilità, il compendio delle compatibilità dei segni zodiacali. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo gli appuntamenti di Torino, venerdì 24 gennaio 2020, il mio seminario su come sedurre chi vuoi e se soffri non ne muore, come eliminare la sofferenza dall'amore, riferimento 333 15 11 703. Poi abbiamo Milano, domenica 1 marzo, full immersion, dalle 9.30 alle 19, autostima e seduzione, in amore e nel lavoro, riferimento 333 15 11 703. Bene, per questo video è tutto, ti ricordo che c'è la possibilità di abbonarsi sul canale Massimo Terramasco, basta andare sul canale Massimo Terramasco e clicchi sul tastino abbonati e potrai iniziare il tuo percorso di crescita personale con me. Ciao a tutti! Ciao!